ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video è arrivata shanyun con il lander right l'evento più bello di tutto l'anno per me e siamo qui oggi per pullarla 50 e 50 siamo intorno a pt 40 siamo tipo a 37 quattro stelle abbiamo gaming che è nuovo quindi più cose lazioni si trovano meglio le altre due sono c6 quindi sono tutte pull se va tanto tanto bene su di lei nel senso dovessimo vincere il 50 e 50 o trovarla comunque anche se lo perdiamo a pt bassissimo ci spostiamo poi leggeramente nel banner army per beccarci un sabbione di sicuro ma speriamo di no in ogni modo siamo qua oggi riesco forse a fare quasi una multina anche sul permanente sono a pt basso però comunque non si sa mai nella vita e niente non so se dividerò il video in due se no ci sarà un video mio e vedremo e poi uno degli altri niente io vi auguro buona visione auguratemi buona fortuna e incrociamo le dita quindi andiamo 38 così a me ne andiamo a 40 che è più carino mi ero fatta due multi nei banner scorsi per che per fortuna ho trovato 39 quindi ho il pt leggermente alzato per questo che a differenza di kirara che è stata gentile e in quelle due multi tirate uscita e 40 perfetto da adesso andiamo di multine usiamo il solito mio modo quindi arriviamo a 74 e poi tiriamo la multi ok siamo a pt 40 andiamo a 50 vediamo se gaming ci assiste e ci viene un po incontro allora no faro sempre inizio multi ci va bene una singola voi quando vedete faro sano noel una singola quattro stelle of banner non ho detto nulla di che ma mi manca la c6 di cave o freminet c1 mica c1 linette c2 mi sembra e mi manca kirara tutti gli altri sono c6 sono c6 quindi diciamo se dovesse uscire uno di questi che vi ho detto gg se no vabbè ci arrangiamo ok chiediamo inizio multi perfetto siamo a 50 quindi prendiamo e andiamo a 60 siamo vicini al soft perché avendo alzato il pt almeno quello almeno quello ce l'abbiamo lion's roar che abbiamo visto oggi essere particolarmente in rate up vediamo vediamo se c'è anche un personaggio che c'è il 33,3 per cento periodico che sia lui vediamo vediamo ok ancora farzan eliana va bene andiamo a 70 4 stelle e poi ragazzi adesso facciamo quattro singole e poi la multi del 5 stelle vediamo è a fine multi il 4 stelle oggi è il farzan day incredibile nel mio account invece il farzan day oggi ok ci siamo allora 71 72 72 ok 73 e ultima e 74 vediamo se è early ok niente va bene allora multi adesso ragazzi panico ansia ansia panico no comunque vada ce la portiamo a casa lei quindi va bene però se dovessimo vincere meglio vediamo dai molti del 5 stelle non ho visto la gare quindi niente 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 non dico niente 75 alzo le mani alzo le mani niente bene 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 non non me l'aspettavo di vincerlo sinceramente a sto giro è andata benissimo 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 bellissima bellissima gli faccio una quotina mi ha voluto bene mi ha voluto bene non me lo aspettavo sincera non me lo aspettavo grazie grazie non me lo aspettavo sei stata molto gentile veramente bellissima 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 vabbè 1 2 3 4 sì la multi top la multi top raga bellissima bella dai ci sta ci sta ci sta ci è piaciuta questa multi ci è piaciuta dai siamo soddisfatti non si spaventa più dai coming grazie almeno uno e poi lo faccioci uno con con l'evento tra l'altro le costellazioni sono molto buone quindi chi riesce a costellarlo gg ok dai ragazzi è andata bene sono sono soddisfatta avevo paura di non trovarla sinceramente o di doverci pullare tanto invece perfetto non dico niente 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 vabbè pt 10 vabbè pt 10 let's go vabbè 4 stelle non avevamo dubbi di certo non me l'aspettavo nella prima multi però nel primo no basterebbe nel primo pt non pretendo a pt 10 mi va bene a pt 60 lo accetto tranquillamente però amici vorrei almeno bella questa bella questa bella 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 dai carina carina dai allora il personaggio è venuto bene prendiamo anche st'arma fatta bene prendiamo anche quest'arma fatta bene dai no che onestamente io ce l'ho c1 se non sbaglio o no c0 forse questa è la c1 e la c2 quindi vabbè comunque dicevo mi basterebbe nel primo pt cioè non pretendo adesso tiro questa multi e c'è il raggio dorato quello no però che almeno ci fosse appunto alla 66 67 l'arma giusta sarei molto contenta sinceramente e questa cosa dell'arma giusta io non me la sento mai nel banner army e ultimamente è così cioè a me ultimamente non lo trovo mai al primo pt sempre al secondo e la maggior parte dei casi al terzo quindi sarebbe sarei contenta possono tenersi l'herly pity però insomma artificial doppio 4 stelle vediamo ok questa va beh molte le armi siamo nel banner army al senso continuate le pulle sono uscite dei e la fagiana su dei arma consigli e io c'ho la sua quindi e poi adesso fammi finire di pullare poi ci ragioniamo ok pt 20 andiamo a pt 30 4 stelle chirara dai facciamo un gioco divertente tu mi dai una chirara e io non mi lamento più mi rifai avere il genshin index completo che è da luglio e non ce l'ho e vivo male molto male se non fosse evidente va bene andiamo a 40 certo che a 40 si potrebbe iniziare a darlo è il raggino dorato è per la fiducia riposta per il gameplay per il supporto alla community tante cose cioè è un mix no è un mix no andiamo niente ok 50 nulla bisogna arrivare al pt che non ci stupisce il punto sarebbe magari che l'arma fosse quella giusta e poi saremmo contenti tranquilli soddisfatti felici e gioviali non trovate amici miei vediamo bene sacrificial tanto che starmi sono tutte armine noi lasciamo lì nel dimenticatoio ci basterebbe quello ok ok adesso facciamo molti 4 singole e di nuovo molti e ci siamo 60 bene bene adesso facciamo 4 singolette anche io mi sento sempre male per questo banner tutte le volte anche quando il personaggio è più gen... no vabbè ma oggi è una maledizione non c'è verso tra l'altro io ce l'ho già c6 quindi è una pull dicevo anche quando appunto il personaggio è gentile il banner armi ti deve sempre ricordare che tu lo devi odiare cioè ti da sempre i motivi giusti per odiarlo ora c'è da dire che mi da sempre doppio quattro stelle quindi mi sto rifacendo quasi una multi barra una multi c'è una singola a full a multi però insomma di una però te veramente potevi stare un po' a casa tua eh allora 4 singole 61 puoi anche uscire in queste eh non c'è nessuna prerogativa che ti dice che devi per forza uscire alla 64 non c'è scritto da nessuna parte 62 non c'è scritto che devi uscire per forza dopo la 64 puoi anche uscire ora e farmi evitare la multi 63 4 stelle kirara bella e 64 e ora poi tiriamo la multi a meno che non sia qui assolutamente no ok allora comunque vada è un successo perché io il personaggio l'ho portato a casa però se è l'arma del piccione siamo più contenti su vediamo allora questa era 65 66 appunto appunto io non so che dire questo banner è veramente terribile vabbè ne ho 4 anche Yunjin di cortesia anche lei sempre la mesce sempre va bene che sono full però io ve l'ho detto questo banner è così il primo pity non esiste poi dopo si inizia a ragionare scam banner confirmed lo dicevo prima lo dicevo prima bello quindi speriamo escano il secondo pity magari early magari early bene un bel sacrificial a chiamare di una a chiamare di una ormai sempre presente come si dice famoso gatto attaccato vai senza entrare nei dettagli ci siamo intesi fra di noi amici ci siamo intesi fra di noi il gatto ok non diremo ma sappiamo gatto nel sacco quindi allora con quelle due singole e questa molti siamo andati a pt20 quindi andiamo già a pt30 tra l'altro possiamo flexare di essere già cioè si va a pt30 a metà pt a pt35 stelle no 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 non esiste non esiste pt35 stelle esatto detto molto finemente no visto perché mi tocca sempre mettere il triple banner a me in live perché poi anche se il personaggio lo vinciamo che capita molto spesso qua c'è sempre da fare così per questo il sostegno è importante perché se no qua si vada poi parti ok va bene qui siamo quasi novalpiti eh 40 questa la schifiamo netta toma mi sento presa in giro da te toma 50 un paio prima no un tommaso un tommaso c'è anche toma molto buono mi hanno detto che è molto buono in team germinazione ok molto bene belle queste armine molto carine ultima multi 60 per carità per carità divina quando pensi che non puoi trovare più cose orride compare lei quando pensi che non puoi trovare più cose mostruose compare lei e ti rendi conto che forse il fondo non lo avevi toccato ma l'hai raggiunto ti rendi conto che il fondo non l'avevi ancora toccato ma l'hai toccato adesso arriva lì grazie per la litig bello almeno la litig la rifaniamo un sacco allora 61 io quasi quasi vado di singole perché se dovesse essere l'arma giusta gg se non è l'arma giusta rip cioè vabbè però se è l'arma giusta gg quindi andrei di singole 62 63 ok 64 e teoricamente la dovremmo tirare la multi ma andrei di singole sia per il patema d'anima sia perché appunto se per caso è quella giusta risparmiamo quindi 65 ok 66 4 stelle per farci venire un infarto perfetto bello 67 eccola guarda è quella di naida eh lo sa io questo gioco lo conosco io lo conosco io lo conosco lo so troppo bene troppo bene lo so lo so lo so lo so vediamo un po' come va dai su 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 vediamo p di zero subito adesso e ti dice scusami se ti ho fatto aspettare no no magari con kirana nel mezzo tipo kirana così vediamo una chiraretta dietro l'angolo se ce l'abbiamo ok comunque è chiaro in realtà che escano tutte queste di una è in rate up il sacrificial quindi per forza è tutta una versione di rate up 20 4 questa la skippiamo no rosaria comunque quando le skippo c'è il coso eh c'è il 4 stelle personaggio c'è il 4 stelle personaggio 30 lo so se ci avete fatto caso è la seconda volta che skippo prima toma e poi rosaria se qui non c'è la prossima la riskippiamo vediamo è che l'ansia mia dello skipparla è che poi ho paura ci sia tirara nella multiche skippo piangerei un po' sono sincera se dovessi skippare la multiche anche la piangerei un po' perché voglio mandarcela alla gatta voglio mandarcela a quel paese quindi non possiamo rischiare 40 tra l'altro la prossima multa la faccio con le star glitter 40 e niente raga 3 pit interi proprio interi 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 li ho fatti non uno sconto sono partita da pt1 cioè pt0 del primo e chiudo a pt60 del terzo 65, 66, 67 quello che sarà è così, è così, è così ottimo però qui c'è stato il doppio personaggio 46 senza skip buono vediamo allora questa qua che è la multi per andare al 50 tra l'altro ve la faccio così così ci risparmiamo qualche primogen guardate così tac si va di qua 50 ma non abbiamo utilizzato le primogen per questa allora c'è da dire che questa arma è molto buona su di lei veramente tanto poi quando uno arriva al terzo pitici va però io comunque quando pullo vi ribadisco quello che penso ogni volta io lo faccio perché comunque me lo permetto tramite le donazioni live eccetera ma voi non pullate nel banner delle armi ragazzi cioè non li buttate i soldi così non esiste tanto ci sono delle alternative buone ci sono delle alternative buone quindi veramente non lo fate allora allora facciamo questa andiamo a 60 sì e poi io a sto punto riandrei di singole così eventualmente qualche singola ce la teniamo va bene e facciamo così buoni sta gritta e fanno comodo facciamo tutto di singole Davide dice che non ci siamo ancora invece c'eravamo invece c'eravamo poi è uscita prima boh però c'è il razor non lo fate raga consiglio non lo fate sarebbe terremamente quindi se era come dicevo io 60 61 62 63 64 65 66 avevo ragione io bene a posto lei l'abbiamo presa tiro l'ultima per goliardia la famosa alza piti early soft bla bla ecco appunto ho fatto bene a tirarla questa me la sentivo ho fatto bene a tirarla io nel banner armi sculo raga io sculo solo nel banner armi questo va benissimo perché o è garantito o è c1 io questa me la sentivo io ragazzi io nel banner armi non sculo nel banner personaggi si qualsiasi cosa sia anche se lo perdo va benissimo adesso mi sento riappagata dai 1 2 qualsiasi cosa sia va bene 3 4 anche se è perso anche se fosse di look va benissimo 5 va benissimo 6 7 8 9 e 10 c1 va bene c1 ok a posto qui voi